Incontro tra i rappresentanti dei partiti comunisti europei, oggi a Roma, al centro del confronto, i temi della crisi economica, come spiega Marco Rizzo. Ascoltiamo. La crisi morde il popolo italiano. Quando vi chiudono un ospedale, quando vi tagliano la pensione, quando non trovate un lavoro, i responsabili stanno in Europa, stanno nelle banche europee, stanno nella banca centrale. Quando vi dicono che c'è il pilota automatico per l'Italia, vuol dire che fanno dell'Italia quello che vogliono. Contro l'Unione Europea, contro l'Euro, contro la Nato. Per il socialismo. Questa è la nostra proposta.